Allora, mi dica tutto. Non so che mi succede, ho degli sbalzi d'umore. Tutti dicono che mia figlia è bella, brava, meravigliosa. E di me, niente. Mi perdoni se la interrompo, signora Pesceau. Io sono un ortopedico. E guarda quella, che meraviglia. Apparecchio ai denti e brufoli. Grazie di cuore, mamma. Non è colpa mia, sei una vita di merda. E si presenta con quella. Ma quella è la moglie. Sabato andiamo alle Maldive. Noi invece andavamo a Dijoni, dai tuoi. Era da impiccarsi. Tanto ormai ci ho fatto il callo. Ho già incontrato donne inacidite come lei che non scopano più dalla notte dei tempi. Non si creda così originale. Posso salire per un bicchiere? Salire? No, abito al pieno terra, non credo proprio. Natalia è una bomba a letto. Ma sei impazzita? Per dire, non siamo mai stati a letto insieme, almeno non ancora. Natali significa giorno della nascita. E quindi, presto tu rinascerai. Sarà tutto come prima. Dammi una possibilità. Non adesso. E allora quando? Perché deve essere tutto così complicato? A volte sono le persone che amiamo di più a renderci la vita così complicata. Tutte attraversiamo quelle fasi, un po' vengono, un po' vanno. Se una fase viene e va, non è il mio caso. È la mia vita. Volete scoprire se il trailer è entrato nella nostra classifica? Visitate il link nell'infobox e commentate sotto al video. Ricordatevi inoltre di cercare Screen Week e di iscrivervi a tutti i nostri social. YouTube, Facebook, Twitter e Instagram. Per ogni notizia sul cinema, sulle serie TV, per il gossip dell'ultima ora e le recensioni delle ultime uscite, non perdetevi il nostro blog, blog.screenweek.it. Volete inoltre rimanere connessi anche dal vostro smartphone Apple o Android? Scaricate le nostre app Screen Week e Screen Week TV. Sono gratuite. Ciao! Ciao!